Sarà qua in giro Eccolo là Eccoli qua Vabbè un attimo Con calma Allora una alla volta Facciamo fuori tutti E tu Compari così Non dovrei scappare Potrà scappare anche lui se vuole Ma noi Non siamo così Buon cuore Ah ok allora non siete come me Guarda E questo qua che ci dite il buco? Ma ecco C'è un buco qua nel muro Con dentro Questo adesso lo prendiamo dall'altra parte Vieni vieni Non preoccuparti Ok c'è roba Sì devi andare sopra infatti Vai Ah andare su Eh sì Andiamo E qua che c'è quella porta lì Che non so Ah ecco Si entrava dall'altra parte Noi siamo Di qua Per l'ustre l'aeroporto Nel Morgan Town L'ha segnato Pulsante Vai entriamo Entriamo Oh Occhio Perché qua sono Noi Cioè io Non c'ho la testa da qua Se si chiude Si No aspetta Come la testa Si chiude la porta Si ce l'ho Ok Vabbè quante gente Mi ha massacrato C'era una festa E non c'era un invitato Disinfestazione Trofeo guadagnato Vabbè Ho sbloccato un trofeo Che neanche se io come Però vabbè lo stesso Eh ma funziona così Ah è normale Ti porta punteggio Anzi strano che non sei ancora Aumentato di livello Non mi ha fatto salire di livello Quindi non lo so Arriverà Ma questi qua Se tu schiacci quadrato Vedi se ci sono delle armi Che ti possono interessare Ho raccolto le munizioni E le armi non è che mi interessano Più di town E si sale Finalmente era aperta Non l'avevo mai aperta Bravo E' successa una cosa incredibile Allora Si Dopo anni sono Dopo anni Eh si Non ti becco mai Quando è Questa volta Ok Quante belle munizioni Sto recuperando Abbiamo fucile va Eccoci qua E vabbè quante munizioni Ne avevano questi qua Oh è sparito Ragazzi Ragazzi Si cosa cosa Ti hanno buttato fuori Ah ti hanno buttato Come ti hanno buttato fuori Mi hanno buttato fuori Sono stato là Ogni tanto lo faccio Oh 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 Fa entrare Non mi fa entrare E' affatto bene il gioco Allora No ogni tanto Fa questi scherzi La connessione Non è neanche il gioco Ah la connessione Allora Sì Dovrei rientrare Solo che Mi cominci da capo Mi farà strano Non so se mi fa spronare fuori o dentro Cacchio Proprio dove siete voi E' trovato il tipo con lo nastro E' un tipo qua con lo nastro E' infatti quello lì Glielo devi dare a lui E' il registro del soprintendente No le scherzavo Il registro Il personale del soccorritore Lì forse c'è una chiave E' una tessera Che può servirgli Mi sembra C'è un nastro Sì ma sopra Sei già andati via da lì No Siamo andati solo avanti Siamo arrivati al punto Dove parla col tipo Te ma mi credi Che sono fuori Fuori Che la miseria E' intanto Senti di sei già nella squadra Non lo so 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 Ok Non è uscito la squadra Sono rientrato Il problema adesso Devo rientrare dentro Non so dove siete voi Siamo sopra no? C'è stai qua Ah ma Stiamo a prenderlo Va la porta Eccoli Mi stanno sparando di nuovo Sti disgraziati Sto rientrando eh Sono già qui all'aeroporto Ok Io sto ascoltando la cosa qua E lui non c'è La sua vita ha avuto un significato Non lo so Lui e gli altri soccorritori Hanno salvato montaggio Ma alla fine sono tutti morti E adesso sono solo Sto andando a recuperare Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua In ogni modo Ne avrai abbastanza Dei miei non ricerenti Cosa potrai Dei questo Ecco Sai dove ci troviamo? Eccoci Allora Andiamo Ok Occhio perché stavano scronati Per colpa mia Porca miseria che mi ha buttato fuori Ma ti rendi conto C'era una donna di nome 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 Su quel tavolo C'è un suo volonastro Perchè parli in inglese? Si Sto tipo Allora Allora Let's work Aspetta il secondo FIT Non sono qui a molto Perchè tutto quello che so Ehm Perché sei ancora qui Quella cycle su quest'area Aspetta che Qua c'è la cucina Chiaramente voi ci avrete già guardato Ehm Maredetti Oh 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 Ma eccolo qua Eri Comunicato Uuuh Uuuuh Forse c'è una roba utile Che posti qui? Ehm Ah Grazie del suo evito Se vieni qua c'è un ronardo Se ci saranno C'è la vita in mano Ok basta parlare con questo tizio Che mi ha occupato il tempo Ehm Ehm Aspetta no 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 Stanto Stanto qui davanti c'è un ascensore Che Non è un ascensore Cosa fa l'ascensore? Ehm Cadi giù Ehm E' un finto ascensore Dietro dietro Ehm La tipa c'è la mia mano Allora Voi parli di Michaliano Il cadavere non c'è niente C'è un'arma che non c'è Ah è qui Come faccio a prendeggelo? Eh basta che gli clicchi la mano Sta vicino C'è Ho trovato una scatola di tappe 40 tappe Io sono in questo ripostiglio Mi sono chiuso dentro Ma Non credo di poter riaprire la porta dall'interno Va tutto bene Tutto bene È solo una rinanzione a cura lo stress Parco Angoscia Respira Anche a me l'ha parlato in italiano Anche a me l'ha parlato in italiano Però c'è venuto scritto in inglese Un pezzo Un pezzo L'ho fatto perchè non l'avevo mai arrivato questo treno Lo sai Un pezzo Un pezzo Un pezzo Un pezzo Grazie a tutti.